Trasformato in un campo di bocce per i giochi del Mediterraneo, è poi lasciato sostanzialmente ad una spianata d'asfalto. Per l'antistadio di Via Pepe a Pescara, spenti riflettori dell'evento internazionale, la stagione sportiva 2009-2010 non è mai iniziata. Certo, le condizioni del terreno prima dei giochi non erano entusiasmanti e allora si è deciso di fare di necessità virtù, rifare da capo il manto affidandosi all'erba sintetica, spiega l'assessore Nicola Ricotta. Dovendo ripristinare la funzionalità iniziale, cioè il campo di calcio, dovendo eseguire dei lavori che avremmo sempre dovuto appaltare per la rimozione del manto d'asfalto collocato lì, abbiamo ritenuto opportuno di progettare il campo dandogli la strutturazione in erba sintetica, per cui siamo nella fase esecutiva di questa progettazione. L'erba sintetica consentirà una fruizione migliore del campo anche in condizioni meteorologiche avverse, un'opzione condivisa anche dalle società che però sanno di non poter contare per questa stagione agonistica sul campo, come ammette lo stesso assessore, quando gli chiediamo dei tempi. Se non fosse capitato nel periodo di ferie avremmo guadagnato sicuramente 15 giorni perché per fare determinati lavori abbiamo avuto necessità della deroga della federazione calcio. Quindi questo ci ha ritardato un po' nell'approvare la progettazione e quindi dare via al bando di gara e di conseguenza all'esecuzione dei lavori. Però si tratta di perdere un mesetto in più. L'avvio di questa stagione agonistica sarebbe stato comunque compromessa, anche se avessimo solo ripristinato la vecchia struttura. Perdiamo qualche settimana in più, però sicuramente il guadagno è tanto. Infatti le società sportive non hanno assolutamente, per quel che mi consta, criticato questo operato, anzi hanno dato approvazione circa l'iniziativa di questa amministrazione.